Ciao a tutti, oggi volevo farvi vedere un po' di prodotti che ho terminato in questo periodo e... beh, già che ci sono, Maddericce, lei è una nuova amicia, è arrivata, non so, dai giardini quindi sicuramente è stata abbandonata, ovviamente, come al solito, la gente di questi periodi abbandona gli animali non capisco come faccio, anche perché è un'amicetta buonissima lei è buonissima, ma è vero che sei buonissima? e si chiama Greta e niente, piccola piccola, sta qua vabbè allora, veniamo a noi, i prodotti finiti la prima è questa qui, che è una crema viso della Yves Rocher ed è la crema del risveglio di questa crema ho fatto la recensione nel blog quindi magari vi lascio il link nell'info box e se vi interessa, insomma, ecco l'inci o comunque delle... una recensione un po' più dettagliata mi è piaciuta molto come crema è una crema molto fluida, molto leggera secondo me va benissimo per pelli normali, per le miste soprattutto in questo periodo che fa caldo, perché si asciuga molto bene non lascia la pelle unta e... l'inci è ottimo è ecocertificata ma qua c'è i marchi, ecocertificazioni varie comunque trovate tutto sul blog e... era 50 ml questa crema e il costo era circa 15 euro ma io l'avevo presa con lo sconto la dovreste trovare negli acquisti fatti verso marzo da Yves Rocher sì, perché comunque è durata abbastanza e niente buona, buona ora, non so se la ricomprerò ma perché sono curiosa di provare altre creme e vi confesso che ho fatto un ordine da ierba ho ordinato un sacco di creme viso vabbè che ve lo dico fa poi quando arriverà il pacco vi farò vedere tutto insomma, buona se cercate una crema leggerissima secondo me va bene anche per chi ha la pelle grassa perché non è una crema pesante anche se ci sono all'interno parecchi oli però rimane una crema molto leggera quindi secondo me anche ecco da mettere una volta al giorno sulle pelle molto grasse poi l'altro prodotto terminato sono queste qua le salviettine struccanti della essence queste qui blu che sono per il trucco waterproof allora, all'interno ce ne sono 15 ora, il trucco waterproof non è che lo levi un granché diciamo che strofinando un po' si lo leva ma bruciano almeno a me bruciano da morire quindi non riesco a levarci il trucco in maniera ottimale perché dopo poco già mi bruciano e quindi non posso utilizzarle quindi no, sicuramente non le ricomprerò sono comode per viaggiare perché sono una confezione molto vicina da portare appresso però ecco a me bruciano molto lì ci fa pietà e quindi vabbè a chi non ha problemi di allergia o comunque ecco che non ha occhi sensibili le può usare tranquillamente altro prodotto terminato è il latte detergente al pioppo nero della Naturs che è il mio latte detergente preferito penso in assoluto questo qui è consigliato per pelli miste impure ma in realtà non è che secca la pelle assolutamente anzi ha un profumo di vino secondo me a me piace da morire mi piace molto la consistenza perché è molto cremoso non è un latte detergente fluido come molti ma è proprio bello cremoso è quasi una crema con la quale riesco a struccare tutto il viso anche gli occhi ovviamente non rimuove bene il trucco waterproof ma per quello ci vuole l'olio però riesce a struccarmi benissimo e non brucia gli occhi mi piace la sensazione che lascia sulla pelle la pelle è molto liscia non la secca l'inci ovviamente di tutto rispetto che dire mi piace mi piace mi piace sicuramente lo ricomprerò perché perché mi ci sono trovata benissimo questo qui eccolo qua ora il prezzo non me lo ricordo però forse sul blog da qualche parte l'ho scritto ve lo farò ve lo scriverò magari comunque dovrebbe essere 15 euro una cosa del genere credo non me lo ricordo proprio però ecco buono 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 quindi questo sicuramente lo riprenderò e per finire sono riuscita a terminare non riuscita perché insomma mi è piaciuto se no sembrava finalmente ce l'ho fatta invece no mi è piaciuto molto è questo shampoo qui della desert essence si è uno shampoo anche questo ecco bio 100% vegano senza glutine vabbè cruelty free biodegradabile questo shampoo l'ho preso dal sito di iHerb niente che è la mia rovina perché ho acquisto in continuazione da questo sito almeno un ordine al mese lo faccio ora infatti ne ho aspettato un altro molto molto corposo e all'interno di questo shampoo c'era l'olio di cocco c'era l'estratto bio di lampone l'olio di jojoba insomma era uno shampoo che loro dicevano lucidante comunque che dona lucentezza per tutti i tipi di capelli in effetti a me è piaciuto molto anche perché in questo periodo io liavo tutti i giorni i capelli devo dire che non me li secca affatto in più io non uso quasi mai il balsamo quindi se lo shampoo è troppo aggressivo me ne accorgo subito invece invece mi sono trovata benissimo la confezione era da 236 ml quindi insomma era un tubone bello grande il costo mi pare che veniva sui 5-6 dollari quindi parliamo di 4-5 euro non ricordo se vedete qualche video vecchio sugli acquisti iHerb lo dovreste trovare e ovviamente senza parabeni senza il sodium laura sulfate poi che ci dice vabbè senza silicone senza fragranze artificiali senza DTA senza derivati del petrolio insomma uno shampoo ecco bio in in tutto e per tutto ah sì no eco no perché bio sì eco no perché comunque ci sono degli oli e gli oli normalmente non sono biodegradabili quindi diciamo che è biologico buono 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 mi è molto piaciuto anche questo mi piacerebbe riprenderlo però sono curiosa pure di provarne altri che ce ne sono ce ne sono tanti altri tipi sul sito di questa marca ma anche di altre marche che vorrei provare quindi quindi sì è buono ve lo straconsiglio magari per ora non lo riprenderò perché proverò qualcosa di nuovo però mi è piaciuto tanto tanto lascia un buon profumo di lampone sui capelli dura la profumazione dura abbastanza non tantissimo però insomma buono i capelli teoricamente durano puliti a lungo quando l'ho usato che faceva meno caldo ora non lo so più perché perché li lavo tutti i giorni e niente questo è tutto con i miei prodotti finiti di questo periodo vi mando un bacione ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao